Rinviare l'apertura delle scuole dal 15 settembre al 1 ottobre. La proposta arriva dagli operatori turistici che puntano a recuperare i magri bilanci della prima parte dell'estate, dovuti soprattutto al maltempo. Se ne fa un gran parlare e le opinioni non sono concordi. Netta e dura la presa di posizione dell'ADUC, l'associazione in difesa di utenti e consumatori. A parte che nessuno al momento è in grado di dire se dal 15 settembre al 1 ottobre il clima sarà adatto ad una vacanza estiva, nonostante ufficialmente l'estate finisca il 21 settembre, come viene in mente una proposta del genere per quest'anno? I calendari scolastici sono già stati fatti, le persone hanno già deciso come e dove prendere ferie e vacanze e che in assoluto tutta l'organizzazione sociale ed economica non sarebbe in grado di farsi carico di questo cambiamento, fa notare il presidente dell'ADUC, Vincenzo Don Vito. Noi non entriamo nel merito della giustezza di una simile proposta, prosegue l'associazione, ma forse se ne può parlare per l'anno prossimo e sempre con l'incognita climatica che potrebbe far pentire di aver scelto un periodo piuttosto che un altro. E conclude, non neghiamo le difficoltà del settore turistico ma crediamo che si possano risolvere partendo dall'esistente, reinventandosi cioè offerte, qualità e presenze.